Spesa sanitaria e imposte, molisani tartassati, costi della sanità in Molise tra i più alti d'Italia, pressione fiscale alle stelle, cittadini sempre più in affanno e l'attuale governo regionale ancora non riesce a mettere in atto correttivi adeguati. Frane, strade chiuse, emergenze in Molise, Fresilia e Macerone sono solo due o tre collegamenti importanti bloccati da smottamenti con gravi ripercussioni sulla viabilità, la regione è chiamata a intervenire in maniera decisa e risolutiva. Due novembre si commemorano i defunti, in tanti hanno affollato i cimiteri in tutta la regione portando fiori ai propri cari che non ci sono più a Campobasso a cerimonia per ricordare Alessandro Dilisio, il soldato morto in Afghanistan. Piscina di Isernia, battaglia in Consiglio, la preannunciano le minoranze, si parla di ricorsi e illegittimità nella procedura eseguita dopo che in aula sono passati piano tariffario e regolamento per la gestione della struttura. Benvenuti al nostro telegiornale Molisani, sempre più in affanno con una spesa sanitaria pro capite tra le più alte d'Italia e una pressione fiscale alle stelle, la diretta conseguenza del disavanzo accumulato nella sanità contro il quale l'attuale governo regionale non è riuscito a mettere in atto correttivi adeguati. Ci dice di più in questo servizio Anna Maria Di Matteo. Al Molise va la maglia nera per spesa sanitaria e pressione fiscale. I dati sono impiedosi e arrivano da confartigianato. Dalla fredda logica dei numeri viene fuori che i contribuenti molisani sono tra i più penalizzati, i più tartassati d'Italia, una conseguenza diretta del pesante deficit accumulato nella sanità. Va detto che negli anni la spesa sanitaria in Italia è cresciuta a dismisura sia per effetto dell'impennata dei costi dei medicinali dei prodotti farmaceutici sia soprattutto per i costi delle prestazioni. Curarsi in Italia costa di più che nel resto d'Europa ma curarsi in Molise è un vero salasso. Nonostante le ridotte dimensioni demografiche il Molise paga lo scotto più pesante per quanto riguarda proprio la spesa sanitaria e la conseguente in posizione tributaria. Il Molise ha le prese da anni con il piano di rientro e a oggi i conti sono ancora drammaticamente in rosso, tant'è che nel corso dell'ultima verifica del tavolo tecnico, quella del 10 aprile, i tecnici ministeriali hanno bocciato l'operato del governo Frattura confermando anche per il 2014 l'applicazione automatica delle maggiorazioni IRAP e IRPEF. Stando ai numeri diffusi da confartigianato che ha elaborato le cifre dell'ufficio studi su dati Istat, la sanità ad ogni molisano costa 2.074 euro contro una media nazionale che è di 1.903 euro. Nella relativa graduatoria il Molise è dunque al quinto posto tra le regioni meno virtuose, mentre per quanto riguarda il deficit la vicina regione Abruzzo ha addirittura invertito la rotta registrando un avanzo nei conti della sanità. Nulla a che vedere con quanto sta facendo l'attuale governo regionale in affanno rispetto agli adempimenti e le prescrizioni richieste dei tecnici ministeriali. Dunque alto costo pro capite per la sanità e addizionali IRPEF e IRAP ai livelli massimi per il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dal piano di rientro. Se a questa situazione è già pesante va ad aggiungersi l'introduzione della Tari e della Tasi con i relativi aumenti, allora è facile immaginare quali siano le condizioni dei bilanci delle famiglie molisane. Il direttore sanitario dell'ospedale Cardarelli di Campobasso attraverso una nota informa l'utenza che per domani è stato indetto uno sciopero per l'intera giornata da parte del sindacato Nursind. Conseguentemente in ambito ospedaliero si legge ancora nella nota sono state predisposte le misure necessarie ad assicurare i servizi essenziali e le prestazioni con carattere di urgenza, mentre saranno possibili disfunzioni o sospensioni dell'erogazione delle prestazioni differibili. Emergenze Fresilia e Macerone sono due strade importanti della nostra regione, attualmente bloccate da frane e smottamenti con gravi ripercussioni per la viabilità e per le aziende che le usano per trasportare i loro prodotti. La surreale vicenda del Macerone, erroneamente indicato per il passaggio del Giro d'Italia, ha portato ancora una volta in cronaca l'emergenza stradale in Molise. È la regione che deve trovare i soldi per aggiustare le due strade e rimetterle in funzione, ma vediamo a che punto siamo. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. La situazione viaria in Molise è dall'Armerosso sia sulla portante principale, la Campobasso Isernia è interrotta a Boiano, sia su Biferlina e Trignina, arterie a dir poco insicure. Inoltre due strade di grande percorrenza come la Fresilia e la statale del Macerone sono interrotte a causa di smottamenti e frane. Insomma c'è poco da stare allegri e oltretutto per il Macerone il Molise ha anche rimediato un'altra figuraccia segnalandolo per farci passare il Giro d'Italia. E proprio su Macerone e Fresilia abbiamo ascoltato l'assessore Nagni per capire cosa sta facendo la regione. Fra la Macerone monitoriamo continuamente insieme al Comune di Isernia la situazione. Abbiamo già investito una serie di finanziamenti per le viabilità secondarie, quelle che permettono oggi ai veicoli sia industriali che alle macchine di scavalcare il quadro franoso. Ovviamente lì abbiamo investito anche fondi per uno studio. Presto lo studio ci dirà che tipo di intervento dovremmo fare. Immaginiamo di essere un intervento intorno al milione e mezzo, due milioni che speriamo di fare nel 2015. Mentre Fresilia, assessore? La Fresilia invece abbiamo con gli FSC riprogrammato intanto il pezzo vecchio dove c'era stato richiesto dalla provincia un intervento intorno ai 2 milioni per queste piccole frane che ne hanno un po' minato la funzionalità. Poi ricongiungiamo l'area di Frosolone di Givitanova sul quadro della Fresilia e poi abbiamo dato mandato per lo studio che dovrebbe portarci nella maniera più adeguata a Sprondasino. Quando avremo anche lo studio specifico sapremo anche quale somma ci vorrà che noi intendiamo fare con gli FSC 2014-2020. Tempi quindi, assessore? Tempi per la Fresilia? Beh, per la Fresilia diciamo per il pezzo nuovo, qualche tempo in più per il pezzo vecchio no perché dal 2015 faremo l'intervento sul pezzo vecchio e sulla tangenziale di Frosolone e sul quadro che da Givitanova scende alla Fresilia. Poi aspettiamo rispetto ai dati, io credo però che va apprezzato il quadro complessivo dell'area che abbiamo ritenuto fosse fondamentale per lo sviluppo di quel territorio. Lo abbiamo dal pranzo condiviso con i cittadini di Frosolone e di quei comuni e andiamo avanti su questo progetto. Oggi 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, cimiteri affollati in tutta la regione per la visita ai propri cari. Siamo stati al cimitero di Termoli con Fabrizio Occhionero. Luogo del ricordo, del silenzio e della preghiera. Famiglie, giovani e anziani hanno raggiunto il cimitero di Termoli per la visita ai cari defunti. Un momento di riflessione sul senso della vita nel ponte di ogni santi per coloro che sono arrivati anche da fuori regione per rendere omaggio ai parenti e agli amici che non ci sono più, ricordando le esperienze e i momenti passati insieme. È l'occasione per ricordare le persone care e il tempo passato con loro e quindi è importante anche insegnarlo ai propri figli e mantenere il ricordo delle persone care. Quanto è vivo questo ricordo? È vivo, è vivo. Le persone care non si dimenticano, sono sempre nel cuore. Si dovrebbe venire tutto l'anno al cimitero, non ricordarsi solo questo giorno. Quanto sono importanti giornate come queste? Si dovrebbe ricordare più spesso, per molti. Per noi ci veniamo spesso, anche se veniamo da lontano. Facciamo più di 100 chilometri per venire qua. Invece io abito a Termoli, però mio marito, noi siamo di Foggia, ma stiamo a Termoli da tanti anni e è morto qua. Mio marito ha 59 anni. Manzoni, che non credente, è diventato credente, ha fatto molte opere e ha detto che le tombe sono necessarie per gli uomini, per quelli che restano, perché si crea quel rapporto al di là e al di qua che ci tene sempre uniti. Diversi commercianti che si sono organizzati per la vendita dei fiori all'ingresso del cimitero, crisantemi, piante e composizioni da lasciare sulla tomba dei propri cari. Le vendite come sono andate? Le vendite sempre diminuite rispetto agli altri anni e per questo abbiamo deciso di diminuire un po' i prezzi sui fiori, sono abbassati, invogliando così un po' i clienti a comprare. In occasione della giornata in cui si commemorano i defunti, piccola cerimonia organizzata al cimitero di Campobasso dal comando militare dell'esercito molisano, la deposizione di un omaggio floreale sulla tomba del caporal maggiore Alessandro Dilisio morto in un attentato in Afghanistan nel luglio del 2009. I fiori sono stati deposti dai genitori del giovane Nunzio e Dora. Erano presenti il comandante dell'esercito molise colonnello Giuseppe Maria Giovanni Tricarico e una rappresentanza di ufficiali e sotto ufficiali. C'era il cappellano militare Don Claudio Recchiuti che ha proceduto alla benedizione della tomba con un momento di preghiera. Parenti e amici di Alessandro, c'erano anche alcuni alunni della scuola primaria Giovanni Paolo II del capoluogo. Passano in consiglio piano tariffario e regolamento per la gestione della piscina comunale di Isernia ma già si parla di ricorsi e legittimità della procedura seguita tanto che le minoranze preannunciano battaglia. Sentiamo ancora Enzo Di Gaetano. Bufera Palazzo San Francesco sulla vicenda della gestione della piscina comunale di Condrada dalle piane. La minoranza ha duramente contestato la decisione della giunta Brasiello di un affidamento temporaneo all'ex gestore e non esclude ricorsi e iniziative di carattere giudiziario. Intanto con i voti del solo centro-sinistra ma non di tutti i consiglieri è passato un nuovo regolamento con il relativo piano tariffario, una decisione che ha indispettito ancora di più i rappresentanti del centro-destra. Io so che è arrivato un ricorso ma tutto questo della piscina è un fatto veramente eclatante. Eclatante oggi dobbiamo approvare un argomento che riguarda la piscina, vale a dire noi oggi in consiglio comunale dovremmo approvare le tariffe della piscina. Allora il gestore, già sono due mesi che sta operando, secondo noi non in maniera del tutto legittima, sta operando, sta operando nella piscina. Non ha firmato il contratto, quindi non ha versato le somme che avrebbe dovuto versare a tacitazione dei debiti pregressi, sta applicando delle tariffe comprensive di IVA quando quel servizio, le tariffe sono senza IVA, è un servizio che vi ha fatto senza IVA. Io non so dove vogliono parare, è stato fatto un ricorso, a questo ricorso ci saranno altri ricorsi, io ritengo che l'amministrazione comunale si ravvedi e veda un attimo di mettere la barca nella giusta direzione perché così com'è ritengo che questo servizio andrà chiuso. Domenica ecologica per un gruppo di cittadini residenti a Parco dei Pini a Campobasso che insieme all'Associazione Fare Verdi hanno deciso di pulire il parco davanti ai palazzi della zona e di piantare anche degli alberi. Sentiamo. Una domenica all'insegna dell'ecologia e soprattutto del volontariato con l'obiettivo di pulire e rendere più bella un'ampia area verde a Parco dei Pini davanti ai palazzi a pochi passi da una scuola, attrezzi alla mano, cittadini residenti, anche bambini, un comitato spontaneo di volontari insieme all'Associazione Fare Verdi hanno deciso e non è la prima volta di dedicarsi alla cura di un parco molto frequentato. L'iniziativa è stata denominata Guerriglia Gardening. Poi le volte all'anno facciamo questa iniziativa qui sul Parco dei Pini, visto che è abbandonata a se stessa l'area, ci sistituiamo a chi dovrebbe praticamente averne cura e penso che abbiamo fatto anche un ottimo lavoro perché abbiamo piantumato negli ultimi, nell'ultimo anno e mezzo almeno 30-35 piante, anche piante pregiate, tigli, aceri, pini, per ridare un po' di dignità a questa, a quest'area praticamente. Oggi, oggi quali piante avete, avete messo qui? Abbiamo messo due piante spettacolari che sono due ginga biloba, che sono piante antichissime praticamente, sono preistoriche probabilmente, sicuramente. Un pino abbastanza grande che ci ha regalato una signora e ce l'aveva sul balcone, dei lauri, dei lauri cerasi, dobbiamo piantare ancora un lauro, un olivo, insomma diverse piante belle che abberiranno sicuramente l'area. Tra i rappresentanti di Fare Verde è anche il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Simone Cretella. Questo pone un problema, la mancanza di un regolamento della cura del verde privato. Quest'area ad oggi è ancora privata, ovvero è annessa alla lottizzazione del Parco dei Pini che ormai è completata da oltre 20 anni, ma le aree ancora non vengono cedute e quindi acquisite dal Comune. Il Comune deve accelerare questa pratica perché deve prendersi cura di quest'area, ma al tempo stesso va anche regolamentato, come detto prima, il verde privato. Chi possiede in città, a qualsiasi titolo, un pezzo di verde, di un'area incolta, non può lasciarla all'abbandono, deve prendersene cura perché ne va un po' il decoro dell'intera città. Il verde pubblico è uno dei punti su cui il Movimento 5 Stelle insiste. Chiaramente le risorse sono limitate, però quelle che ci sono vanno sicuramente meglio spalmate sull'intera città. Oggi invece ci sono delle aree che sono maggiormente curate, sicuramente hanno un'attenzione in più. Altre aree invece che purtroppo sono un po' l'abbandono. Quello che si sta chiedendo è anche quello di spalmare appunto sull'intera città in maniera tale che tutte le aree ottengano la giusta cura e la giusta salvaguardia. È stato presentato anche a Campobasso il dossier statistico sull'immigrazione 2014. Sono tantissimi cittadini che vivono in paesi diversi da quelli di nascita, i dati nel servizio di Marcella Tamburello. Un fenomeno sempre esistito ma che oggi esploso nonostante sia ancora poco conosciuto. L'immigrazione di tutti i popoli conta cifre impressionanti. Nel mondo a fine 2013 le Nazioni Unite hanno contato 232 milioni di migranti, praticamente il 3,3% della popolazione mondiale. Nell'Unione Europea sono quasi il 7%. Il maggior numero di migranti è in Germania con quasi 8 milioni. Segue la Spagna, il Regno Unito e l'Italia dove oggi ci sono 5 milioni di cittadini stranieri ufficialmente dichiarati. Sono i numeri della presentazione del dossier statistico immigrazione 2014 stilato da Lunar, l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali che si svolta nella sala consigliare della provincia di Campobasso. In Molise a fine 2013 su una popolazione residente di 314.725 persone erano 10.268 due cittadini stranieri. 2.651 vivono nella provincia di Sernia, mentre 7.617 in quella di Campobasso. Dal Marocco alla Cina, dall'India al Brasile, Pakistan, Cuba, Albania, Romania, ma anche Argentina, Egitto, Filippine e ancora Nigeria, Senegal e Bangladesh. Sono tantissimi i paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti in Molise. Molti di loro sono lavoratori dipendenti, alcuni hanno aperto delle imprese, altri invece sono studenti, molti disoccupati. L'immigrazione, hanno detto i relatori durante la presentazione del dossier dalle discriminazioni ai diritti, è una risorsa per lo sviluppo del nostro paese, ma comporta anche l'impegno delle istituzioni per garantire politiche organiche di integrazione sociale e di promozione dei nuovi cittadini. Solo in questo modo, hanno concluso, sarà possibile coniugare sviluppo e coesione sociale, superando i problemi che l'immigrazione porta con sé in ogni paese. Oggi è entrata nel vivo la ventesima edizione della mostra a mercato del tartufo bianco pregiato di San Pietro Avellana. Nella tarda mattinata l'arrivo di un treno speciale con a bordo 400 persone provenienti dalla stazione di Sulmona. Oltre a visitare gli stand con i prodotti gastronomici, chi ha raggiunto San Pietro Avellana ha avuto anche la possibilità di pranzare o cenare con menù a base di tartufo bianco a prezzi molto convenienti. Dalle 10 alle 18 aperte la mostra micologica e quella dedicata alla tratta dei fanciulli organizzata in collaborazione con l'archivio di Stato. Il sipario sulla tre giorni dedicata al tartufo bianco calerà domani sera. Per tutto il giorno sono infatti previste delle iniziative organizzate in concomitanza con la ricorrenza di Sant'Amico. È tutto, il nostro telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito e arrivederci.